Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Dovremo parlare di cronaca, purtroppo sentiremo perché, ma parleremo anche di nuove assunzioni, quelle annunciate dalla LTE Toyota, il gruppo che ha uno stabilimento molto importante a corte centrale nella zona di Ostellato. Poi parleremo ancora di maltempo perché c'è un'altra allerta gialla per i temporali. Poi parleremo e vedremo anche tutti gli eventi collegati alla Notte Rosa. E' anche un evento speciale che si collega a questa iniziativa che è la sfilata di CNA di Moda sui tre ponti a Comacchio. Poi spazio anche allo sport in questa edizione, ma apriamo purtroppo con la cronaca. Perché Andrea Fioravanti era il pensionato di 65 anni che ha perso la vita dopo oltre quattro mesi di agonia a seguito di un incidente stradale lo scorso 15 febbraio, mentre percorreva in bicicletta via Argene Ducale, è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 86 anni immediati. I soccorsi ricoveri in ospedale, ma Fioravanti ha lottato per la vita per oltre quattro mesi, fino a sabato scorso, quando è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per l'anziano conducente dell'auto, ora si profila l'accusa di omicidio stradale. E cambiamo adesso totalmente argomento per parlare di imprese. Anche il gruppo Toyota con la Ferrarese LTE insieme a un'altra realtà bolognese hanno presentato alla Regione Emilia Romagna un piano di investimenti e ricerca nel settore dei carrelli elevatori e della movimentazione industriale, il che comporterebbe, è stato detto, quasi 94 milioni di euro di investimenti e oltre 300. Le nuove assunzioni. Sentiamo. Incrementare del 20% la capacità produttiva e migliorare la qualità del prodotto attraverso una semplificazione della fase di assemblaggio nello stabilimento LTE di Ostellato nel Ferrarese e ampliare la capacità produttiva dello stabilimento attraverso la realizzazione di un'area per la logistica ad altissima automazione nel sito di Bologna. E poi la ricerca, con due progetti, uno da sviluppare a Ostellato, l'altro a Bologna, che puntano a sviluppare la base tecnologica della nuova generazione dei veicoli meccanici a partire dalla componentistica dei montanti. LTE in qualità di proponente e TMHMI nel bolognese in qualità di aderente hanno illustrato alla regione Emilia Romagna un programma di investimenti promosso in regione dalle due società del gruppo giapponese Toyota. Gli investimenti, complessivamente 94 milioni di euro, di cui oltre 47 milioni nel sito ferrarese e 28 in quello bolognese, comprendono, come detto, anche due progetti di ricerca e sviluppo per prodotti sostenibili elettrici e idrogeno per oltre 18 milioni e mezzo di euro e la previsione nel medio termine di nuove assunzioni per circa 300 persone con ricadute positive sui fornitori e sull'intera filiera della meccanica dell'Emilia Romagna. Così è stato definito il progetto che la regione, chiamata a esprimere un parere di merito, ha confermato il proprio sostegno e la coerenza della proposta con le priorità di sviluppo regionali, dando il proprio parere positivo. E ora parliamo di una nuova perturbazione che secondo le previsioni starebbe per colpire ancora il ferrarese. È mercoledì, anche lunedì sera. La forte perturbazione è un forte temporale, si è abbattuto sul territorio estense, facendo cadere alberi e soprattutto rami, ma non si sono registrati danni particolari. Una nuova perturbazione sarebbe in arrivo appunto a metà settimana e l'Agenzia regionale della protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla valida fino alla mezzanotte del 4 luglio per possibili piogge intense e temporali. Le previsioni meteo indicano che mercoledì sarà una giornata caratterizzata dalla forte instabilità climatica e la perturbazione. Dovrebbe interessare l'intera provincia, come vedete, l'intera regione con maggior intensità nel territorio ferrarese nella tarda mattinata. E ora però rimaniamo in provincia di Ferrara e torniamo alla cronaca perché si conclude con una denuncia in stato di libertà l'indagine dei carabinieri della compagnia di Comacchio riguardante il furto di medicinali nella farmacia interna alla Casa della Salute San Giuseppe di Copparo, un 45enne già noto alle forze dell'ordine. Per reati simili è stato deferito alla procura di Ferrara. Il furto è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 maggio dell'anno scorso, il 2023. I ladri avrebbero scardinato la porta principale della farmacia e avrebbero rubato medicinali per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Le impronte sono state fondamentali per le indagini e questo grazie anche ai riscontri e ai rilievi effettuati dai RIS di Parma è stato così possibile identificare l'autore del crimine. Adesso però cambiamo totalmente argomento e parliamo di diritto ed economia delle aziende, delle amministrazioni pubbliche. Università di Ferrara e Corte dei Conti hanno siglato un accordo martedì mattina. La collaborazione formalizzata in rettorato verterà anche sui temi della contabilità pubblica applicata alla sostenibilità ambientale, tutela intergenerazionale e valore pubblico. Sentiamo. Università di Ferrara e sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti insieme per costruire attività e progetti comuni negli ambiti della ricerca, della didattica, dell'orientamento professionale e della formazione continua sono questi punti cardine della convenzione firmata dalla rettrice dell'Ateneo Laura Ramacciotti e dal presidente della sezione regionale di controllo dell'organo di rilievo costituzionale Marco Valerio Pozzato. La vocazione a carattere innovativo di Unife richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni ha dichiarato Ramacciotti il sodalizio con Unife questo è il commento di Pozzato è destinato a snodarsi su più direttrici la convenzione che a durata triennale costituisce il quadro di riferimento per le attività che saranno sviluppate insieme tra i due enti in particolare per la promozione e la diffusione di tematiche riferite al diritto e all'economia delle aziende amministrazioni pubbliche e della contabilità pubblica correlate a valore anche in termini di sostenibilità ambientale e tutela intergenerazionale le due istituzioni filmatarie collaboreranno per realizzare progetti specifici di ricerca didattica e di terza missione in particolare la Corte dei Conti potrà fornire supporto alle attività formative erogate dal Dipartimento di Economia e da quello di giurisprudenza Cambiamo totalmente argomento per parlare di eventi adesso perché Comacchio è pronta per mettere ancora il vestito da gala in occasione della sfilata di CNA ai Tre Ponti sabato sera prossimo tanti significati anche di solidarietà di un evento che spegnerà la 29esima candelina allora sentiamo le interviste raccolte durante la presentazione martedì mattina al Bettolino di Foce nel cuore delle valli di Comacchio la sfilata sui generis nel senso che io sono entrato in Gambatesa a un evento già consolidato stravolgendolo totalmente perché non sarà solo una sfilata di moda e già la moda sarebbe tanto perché abbiamo dei brand importanti e delle collezioni meravigliose però sarà una sfilata un po' revival io l'ho chiamata una specie di fashion shuttle perché andremo a ripercorrere un po' faremo una specie di viaggio nel tempo andremo a ripercorrere un po' gli anni passati in chiave musicale ma anche in chiave narrativa quest'anno speriamo di stupirvi ancora di più anche perché come è stato detto in conferenza stampa è una sfilata che avrà un valore aggiunto diverso dagli altri anni con l'apporto di un professionista come Rocco Cagnè come direzione artistica io e Vittoria Tommasi dovremo condurre questo spettacolo che sarà un insieme di musica, moda ed emozioni nata per scherzo tra amici parrucchieri in un bagno per beneficenza sempre un ragazzo che aveva bisogno e da lì tutti gli anni siamo andati in maggiore poi abbiamo girato in centro Portogallo Ibaldi per 3-4 anni e poi abbiamo fatto il salto di qualità a Tre Ponti di Comanchico per noi è stato un regalo bellissimo ci divertivamo e ci divertiamo ancora quindi speriamo di fare tante altre un appuntamento molto importante molto sentito, molto seguito che negli anni è sempre avuto delle situazioni nuove quest'anno ci sono iniziative molto brillanti quest'anno la regia propone delle cose molto belle molto innovative e quindi sicuramente sarà motivo di gradire ancora di più la serata Comacchio in questo periodo è pieno di eventi la notte rosa che avrà notevole sorprese anche illuminazioni particolari così mi hanno garantito l'ufficio dei lavori pubblici ho già visto delle prove tecniche di illuminazione quindi siamo molto felici e molto pronti a raccogliere i nostri turisti e a gratificare i nostri cittadini residenti ovviamente le aziende lo attendono perché è un appuntamento che ha un proprio ritorno aumentano i propri veri fatturati e l'interesse sia diretta di persone che visitano poi le nostre aziende sia in diretta o di vendita anche online e di interessamento anche online quindi questo è un elemento fondamentale per noi per la nostra associazione che siamo direttamente in primo piano per poter aiutare le nostre imprese le nostre aziende anche proprio creando dei servizi per loro in questo modo abbiamo constatato che con la sfilata che abbiamo fatto anche l'anno scorso abbiamo incrementato anche le vendite sia sui social che di persone insomma andare sui tre ponti è veramente un grande orgoglio e soddisfazione le aspettative sono molto alte e si spera davvero che di anno in anno si possa sempre andare meglio con questo evento siamo riusciti anche ad attrarre delle attività anche fuori Ferrara e questo penso che sia una cosa molto importante quindi una grande opportunità per farsi conoscere per portare la bellezza in questo territorio dove i protagonisti ci saranno imprese del mondo fashion imprese artigianali che realizzano le proprie collezioni ma anche delle imprese del commercio che stanno avviando queste sfide perché oggi è una sfida avere un'attività di commercio nel mondo della moda e quindi va molto apprezzato e sostenuto tutti stiamo convergendo nel cercare di dare di animare quello che è il nostro territorio con le sue attività più pregiate il nostro è come sempre un impegno benefico per cui al netto di quanto sia possibile realmente fare e lo testimoniano le ultime credo dieci edizioni tutto quello che ricaviamo viene devoluto come serata benefica, come scopo benefico Teleton è un nostro partner già da diverso tempo ed è anche questa una delle occasioni per raccogliere quei fondi necessari per ciò che è silente anche purtroppo nei media, nei social per ciò che non si vede ma che nella realtà Teleton e tutti gli enti come Teleton fanno per i cittadini e per i territori A proposito di Notte Rosa dal 5 al 7 luglio quindi torna sulla costa Emiliano-Romagnola la Notte Rosa, uno degli eventi dell'estate ferrarese, comacchiese ma anche di tutto il litorale Emiliano-Romagnolo fino a Cattolica l'evento si estenderà in questo caso dai Lidi di Comacchio fino a Ferrara con diverse iniziative sentiamo quali Non solo mare e spiagge con i concerti in programma a Lido delle Nazioni ma anche intrattenimento e cultura in città da venerdì 5 a domenica 7 luglio la Notte Rosa si ripropone anche a Ferrara ad essere illuminati a tema saranno il Castello Estense la Fontana di Piazza della Repubblica e Porta Paola venerdì 5 il Ferrara Summer Festival presenterà in Piazza Riostea lo show La Notte dei Format a cui seguiranno nelle sere successive i concerti di Tedue di Calcutta sabato 6 il Castello Estense sarà straordinariamente aperto fino alla 23.30 ad un prezzo calmierato sarà rosa non solo la notte ma anche l'alba con un concerto alla Certoso Monumentale domenica 7 alle 6 del mattino insieme alla pianista Gilbae mentre di sera la Darsena ospiterà il Comfort Festival infine apertura speciali anche al centro di documentazione sulle mura Porta Paola e da Palazzo Diamanti per un'altra giorni di cultura, musica e intrattenimento a proposito di eventi si è chiuso il Festival Bonsai del Teatro Ferrara Off e abbiamo fatto il bilancio insieme agli organizzatori sentiamo si è appena conclusa l'ottava edizione del Festival di Teatro Bonsai di Ferrara Off che si è caratterizzata particolarmente per una forte presenza al di fuori delle mura del teatro che ha sede in Viale Alfonso Primo d'Este ma con il Festival Bonsai sono stati esplorati più di 9 luoghi differenti oltre al teatro che comprendono sia siti storici della città sia architetture contemporanee sono state registrate oltre 2000 presenze in 17 giornate di spettacolo per un totale di 30 rappresentazioni il contributo delle competenze artistiche in città è stato molto alto sette compagnie hanno avuto l'opportunità di sviluppare i propri progetti in residenza artistica presso Ferrara Off mentre sono state presenti durante il Festival 15 compagnie per un totale di oltre 40 artisti le attività del Teatro Off proseguono ora con la tournée di Futuro Anteriore realizzata con il sostegno del Ministero e di Siae nell'ambito del programma per chi crea per continuare poi da settembre con i corsi di formazione e a ottobre la manifestazione Monumenti Aperti insieme ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che si terrà dal 18 al 20 ottobre Sport adesso il pattinatore ferrarese Mirko Rimessi portacolori della palestra ginnastica Ferrara si è giudicato insieme ai suoi compagni di squadra la prestigiosa 24 ore di Le Mans Roller nella speciale classifica dedicata ai pattini tradizionali superando il precedente record della manifestazione e chiudendo dalla prova con 157 giri per un totale di 657 chilometri percorsi allora sentiamo direttamente dalla voce di Rimessi come è nata questa iniziativa e soprattutto come è andata raccontaci come è nata questa esperienza allora una ventina di anni fa la federazione francese gli organizzatori francesi del pattinaggio hanno deciso di andare nello storico circuito di Le Mans il circuito Bugatti, quello dove annualmente si svolge la mitica 24 ore quella che proprio due settimane fa ha vinto la Ferrari e fare la stessa cosa con i pattini quindi fare una gara di 24 ore a rotelle sono 20 anni che questa manifestazione cresce vede partecipazioni sempre più importanti ed è una grande festa per tutto il pattinaggio francese e mondiale in generale con la partecipazione di atleti di altissimo livello così come persone che provano ad approcciarsi a questa sfida la mia squadra partecipava nella categoria quad cioè i pattini tradizionali una categoria particolare perché l'impianto Bugatti è un impianto molto tecnico con una salita dura, con tanta discesa e soprattutto i pattini tradizionali per la corsa non si usano più da almeno 30 anni però c'è, come facciamo noi a Ferrara in occasione del primo maggio c'è sempre qualcuno che prova a tirarli fuori che prova a fare qualche gara tipo l'eroica di ciclismo il primo maggio, dopo il primo maggio di quest'anno mi hanno chiesto ma ci sarebbe un posto per la prova di quest'anno vogliamo fare il record, dobbiamo vincere vogliamo fare uno squadrone per andare a vincere io probabilmente ero ancora preso dall'organizzazione dalla manifestazione, ho detto di sì ho accettato questa sfida e quindi mi sono accostato a questa squadra che aveva l'obiettivo di battere il record fatto nel 2018 e tra l'altro nel 2018 c'era anche Paolo Campi che ne faceva parte della squadra quindi mi piaceva molto partecipare in suo ricordo e fare un risultato che rimanesse straordinario ci siamo riusciti, abbiamo fatto abbiamo battuto il record in meno di 23 ore e a un certo punto ci siamo messi anche a gareggiare per arrivare nei primi 10 della classifica generale siamo arrivati alla fine dodicesimi ma è un risultato straordinario col tipo di pattini che avevamo abbiamo fatto più di 660 km quindi è stata veramente un'impresa straordinaria mia e dei miei compagni di squadra eravamo in 10, tutti Emiliano, Romagnoli o Marchigiani ed è venuto fuori un gruppo veramente affietato Ecco allora, un bel gruppo che ha portato a casa un risultato importante Mirko, allora anche se sei ancora diciamo relativamente giovane che cosa significa superati i 40 anni e portare a casa ancora i risultati così importanti? Beh, intanto io quest'anno avevo pensato proprio di provare a fare una stagione un po' più competitiva mettere su qualche gara però mi sono reso conto che più di tante gare non puoi fare quindi superati i 40 anni ti devi rendere conto che puoi puntare a qualche obiettivo anche di categorie magari usando le gare master eccetera qua c'era la fortuna di poter portare a un obiettivo assoluto perché non c'era un limite d'età e quindi questo dà una soddisfazione maggiore perché comunque per quella specialità hai vinto hai vinto in generale che è tanta roba comunque Ecco allora, obiettivi futuri? Hai qualche altra cosa che vuole in pentola che ci vuoi anticipare? Beh, probabilmente la mia stagione quest'anno terminerà come tutti gli anni con la maratona di Berlino sui pattini ormai per me è diventato l'appuntamento fisso c'è stato gli ultimi tre anni dove è stata quasi l'unica gara che ho fatto durante la stagione quindi per la mia parte come dicevo passati i 40 anni si fa quello che si riesce a fare organizzando anche col tempo e con il lavoro per quanto riguarda lo sport ferrarese sarà un'estate di fuoco e anche noi come palestra ginnastica Ferrara già la settimana prossima abbiamo i campionati italiani assoluti di ginnastica con un nostro portacolori in gara quindi sarà un'estate veramente intensa lavorativamente parlando e con questo è tutto grazie e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti